Con questa linea guida fatta dalla direzione salute in collaborazione con le prevenzioni, in collaborazione con i pediatri di vera scelta, noi cerchiamo di dire quali sono i sintomi che potrebbero essere conducibili ai Covid e quindi devono seguire il percorso Covid e quali non sono tali, perché altrimenti se andiamo avanti come sancito a livello nazionale, che a primo starnuto uno deve stare a casa a fare il tampone e aspettare il risultato ed altro, rischiamo di bloccare il sistema scolastico, di bloccare le famiglie e di non combattere. Siglate oggi dal governatore entreranno in vigore domani le nuove linee guida per la gestione Covid nelle scuole, tese soprattutto hanno spiegato lo stesso Fedriga con gli assessori Riccardi e Rosolen a semplificare il carico burocratico. La nostra regione avrà a disposizione 40.000 test rapidi da utilizzare negli istituti scolastici. Principalmente adesso anche in questo protocollo, infatti abbiamo aspettato a firmarlo prima di avere la sicurezza di approvvigionamento con questa gara che abbiamo fatto insieme alla regione Veneto, questa settimana appunto dovrebbero già arrivare 12.500, e su questi noi facciamo affidamento appunto per andare a velocizzare tutte le procedure. In teoria anche da Roma hanno fatto un avviso per 5 milioni di test rapidi a livello nazionale, di tamponi rapidi, mi auguro arrivino anche quelli allo stato attuale, non lo sappiamo, però abbiamo deciso di muoverci anche in autonomia per raggiungere il prima possibile risultato. Rimane la preoccupazione per il trasporto pubblico scolastico, per ridurre la capienza a bordo, ha precisato Fedriga, abbiamo bisogno di più mezzi e di più personale di cui abbiamo fatto richiesta allo Stato, al momento senza riscontro. Tra le proposte avanzate dalle regioni è anche quella della didattica a distanza alternata per gli studenti delle superiori, proposta bocciata dal governo. Non possono esserci posizioni ideologiche di sì o no a tutti i costi. Dobbiamo cercare di trovare le soluzioni migliori, ma il più mirate possibile, che creano meno risasi possibili, per tenere in piedi tutto il sistema scolastico che nessuno, mi auguro, voglia chiudere. E non sono mancate ancora le stoccate all'ultimo di PCM. Quando le regioni segnalano delle criticità da correggere, penso che stia proprio nell'ottica collaborativa. Se qualcuno vuole interpretare ogni volta che si dice che qualcosa non va bene, che si fa una polemica inutile, penso sia sbagliato. L'alternativa è per un servilismo sciocco. Se qualcuno è abituato ad essere servo, il Ferenza Giuliano è abituato ad essere servo. E quindi se c'è qualcosa da dire che non va, la si dice. Se c'è qualcosa che dice che va bene, si dice che va bene.